Elena, sì, siamo a Rutigliano in provincia di Bari e sono in compagnia di una bellissima famiglia composta da papà Leonardo, mamma Maria Giovanna, due figlie, Giorgia, Emanuela ed Olivier, il loro bambino che hanno adottato in Burundi qualche anno fa, per cui Maria Giovanna ha scritto al programma e adesso ha l'occasione insomma di raccontarci questa bellissima storia. Maria Giovanna, allora, com'è iniziata? Nel 2017 siete stati in Burundi a prendere il vostro bambino adottato. Sì, ciao Serena, grazie per aver letto il mio messaggio. Sì, nel 2017, dopo ben quattro anni di attesa, finalmente siamo andati in Burundi per incontrare il nostro figlio Olivier. Che dire, è stato forse il parto più difficile dei tre, considera che ho avuto due cesarei, niente, è stata un'esperienza meravigliosa e aver visto Olivier che mi aspettava su quella colonna appoggiato in questa casa in Burundi è stato meraviglioso. Siete andati con tre altre famiglie italiane e avete deciso di adottare appunto Olivier. Allora Olivier, com'è stato incontrare questa famiglia nel 2017? Davvero meraviglioso. Io lì pregavo sempre a Gesù dicendo che potevo avere una famiglia, che non ho mai avuto una vera famiglia e ora sono felice di questo agosto. E quando sei arrivato in Italia com'è stato il momento dell'arrivo? Ho visto tutti quanti che mi hanno accolto benissimo, qui mi sto trovando veramente bene, ho degli amici fantastici e ho dei genitori meravigliosi. Bene, perché devi sapere Serena che oltre appunto queste quattro famiglie che sono andate, ognuna poi è tornata in Italia con un bambino, la storia non finisce qui perché come è continuato? Cioè voi siete tornati, Leonardo ci può raccontare, siete tornati in Italia e cosa avete pensato? Allora, quando siamo tornati in Italia, in realtà anche quando eravamo ancora là in Burundi, insieme alle altre quattro famiglie, dopo aver accolto i nostri figli, quindi in questo orfanotrofio che era a Ghitega. Com'erano le condizioni di questo orfanotrofio? Insomma, quel giorno lo ricordo con tanta emozione, ricordo che giravo con Olivier in braccio e lui mi faceva vedere, guarda papà, questo è il mio letto dove dormivo io, però insieme a me dormivano altri due o tre bambini. E quindi ci siamo resi conto proprio quando eravamo là che le condizioni non erano proprio idonee per ospitare così tanti bambini. E quindi insieme agli altri genitori, già di lì e poi quando siamo tornati in Italia, abbiamo costituito un'associazione che si chiama Quattro in Zù, proprio quattro come quattro le quattro famiglie, in Zù come casa in Chirundi, che è la lingua che si parla in Burundi, e abbiamo deciso di costruire una vera casa che potesse ospitare 50-60 bambini che lasciavamo là, ricordo ancora i loro occhi, come se i nostri figli erano stati fortunati, insomma, loro o meno. Certo, perché comunque lì sul territorio c'era una figura di riferimento, no? C'era Leopold. Esatto, c'è una figura di riferimento, io vi saluto, ciao Maria Giovanna, ciao Leonardo, e vi faccio vedere un videomessaggio, sono qui peraltro con Carlo Calenda, leader di azione, ma vi faccio vedere questa piccola sorpresa da parte del direttore dell'Orfanatrofio del Burundi, indirizzato proprio a voi, lui si chiama Leopold. Ciao, ciao Simona, ciao Maria Giovanna, ciao Leonardo, ciao bimbi, benvenuto. Io voglio bene a tutti, grazie a me, ciao ciao, un bacio. Ciao Italia, ciao, un po' di tutto, benvenuto. Mi sono con Bossa, grazie di averci raccontato questa bella storia, grazie per farci vedere che l'amore può veramente realizzare le più grandi opere. Grazie, grazie a voi, non me l'aspettavo sinceramente a questa sorpresa, e questo è l'ingraziamento più grande, veramente. Mi raccomando, venireci a trovare a Roma, vai, la prossima volta scendete a trovare a Roma, grazie Luca. Ci vediamo, sì grazie, a brevissimo partiamo per il Burundi, per inaugurare la nuova scuola elementare, Matera scusate, e sì, grazie, noi veniamo a Roma con i nuovi video. Va bene, grazie mille, buona giornata.